Allora, ciao a tutti, io sono Andrea Rinaldo, sono un avvocato, per professione mi occupo di sicurezza informatica, proprietà industriale e intellettuale e trattamento di dati personali. Allora, oggi, visto anche qual è l'argomento centrale della giornata, trattamento dei dati e privacy, parleremo di tutto ciò che riguarda il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza e, diciamo, la nostra capacità e possibilità di gestire come i nostri dati possono essere trattati dai terzi, dai social network e quali diritti abbiamo noi per impedire che questi dati possano finire nelle mani di soggetti Nelle mani di soggetti terzi. Allora, di cosa parliamo? Allora, innanzitutto voglio dividere il talk in quattro parti. Innanzitutto, cos'è il trattamento dei dati personali? Poi, la possibilità di utilizzare i nostri dati personali da parte dei terzi e di quella che è la big data analysis, della possibilità di intervenire, di interagire con l'intelligenza artificiale utilizzando i nostri dati personali e poi dell'utilizzo del software open source per gestire i dati stessi. Allora, innanzitutto, quanto siamo consapevoli noi dell'utilizzo che facciamo dei nostri dati personali e del fatto che continuiamo a dare dati personali ai terzi. Abbiamo mai provato a leggere le privacy policy delle varie applicazioni che utilizziamo, dei vari siti web su cui navighiamo ogni giorno? Abbiamo mai provato a capire il contenuto di queste privacy policy? Di cosa c'è scritto? Quando parlano di titolare del trattamento, quando dicono che i nostri dati potrebbero essere trasferiti all'estero? Quando dicono che i nostri dati potrebbero essere comunicati a soggetti per l'utilizzo commerciale o per fare profilazione? Abbiamo mai provato a capire cosa intendono? Abbiamo mai provato a capire a chi stiamo effettivamente cedendo i nostri dati? Nel momento in cui io navigo su Google, nel momento in cui io utilizzo Facebook, qual è il soggetto che effettivamente riceve i dati personali? Quando posto una foto, utilizzo Google Foto per caricare le mie foto per poi farmi book fotografici. Come utilizza Google queste foto? Solamente per farmi book fotografico o poi perché gli dà impasto alle proprie applicazioni per fare machine learning e iniziare a capire e comprendere meglio il contenuto delle foto e poi offrirmi servizi commerciali. Ci siamo mai chiesti perché le applicazioni sono gratuite? Perché Facebook è gratis? Qual è l'oggetto commerciale di Facebook? Perché Google Foto è gratuito? Perché Google Drive è gratuito? Io posso caricare una quantitativa illimitata di foto su Google Foto. Perché? Quando Dropbox mi chiede 10 euro al mese per poter avere un terabyte di spazio. Poi, sappiamo effettivamente come verranno utilizzati i nostri dati? Abbiamo una possibilità di decidere e limitare l'utilizzo. C'era un servizio che utilizzavo io molto spesso che si chiamava Unroll.me. Serviva per evitare che la mia mail venisse inondata di spam. Mi mandava una mail una volta alla settimana dicendomi, guarda che hai ricevuto tutte queste newsletter e mi creava una mail unica. Dopo due anni di utilizzo hanno, diciamo, in maniera unilaterale modificata la privacy policy e deciso che tutti i dati che avevano raccolto dalle mie email potevano essere ceduti a terzi. Evidentemente ho smesso di utilizzare il servizio. Però il fatto che io mi appoggi a un server esterno dislocato magari in California, quindi fuori dall'Italia mi impedisce di avere un controllo diretto sui miei dati e mi assoggetta a modifiche unilaterali da parte di terzi sulle condizioni di utilizzo di questa tipologia di software. Io posso, dopo due anni che ho utilizzato un software, vedermi modificata queste condizioni di utilizzo e soprattutto, dopo che gli ho ceduto dati per due anni, è giusto che loro, di punto in bianco, decidano di cambiare le condizioni? C'era un altro strumento hardware che adesso va molto di moda. L'aspirapolvere da mettere in casa che funzionava in maniera automatica e mi puliva tutta la casa. Io lo lasciavo andare, lui mi tracciava e faceva la mappa del mio appartamento e mi puliva la casa senza che io dovesse intervenire. Poi, dopo che aveva pulito la casa per 3-4 ore, tornava nel suo bel sgabiozzo e si caricava. Praticamente questa società che produceva questo robot, che si chiamava iRobot, è fallita. Nel momento in cui è fallita, loro cosa hanno detto? Ok, ho le mappe degli appartamenti di milioni di persone, perché avevo milioni di clienti. Di queste mappe, di questi appartamenti, io cosa posso farmene? Le vendo. Nel momento in cui loro decidono di vendere la mia mappa del mio appartamento, magari a qualche agenzia immobiliare, voi potete ben pensare a come questi soggetti che riceveranno questi dati o che li acquisiranno, abbiano una base dati di tutti gli appartamenti del Nord Carolina con tutti i soggetti che avevano utilizzato questi robot. Quindi, da uno strumento che mi serviva e che io utilizzavo per pulirmi la casa, ho dato in pasto un dato personalissimo, come quello del mio appartamento, a società terza, senza nemmeno accorgermeli. O solamente per il fatto che una società, in punto di fallimento, ha deciso di materializzare il valore di un proprio asset immateriale, quale? Quello dei dati personali, per venderlo. O quanto ci fidiamo noi dei soggetti a cui stiamo concedendo i nostri dati? Avrete tutti sentito dell'acquisizione di WhatsApp l'anno scorso da parte di Facebook. Con Facebook che continuava a dire alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tutto quello che era, diciamo, gli altri organi dell'Unione Europea. No, noi non utilizzeremo mai i dati che ha raccolto WhatsApp. Noi non incroceremo mai i dati dei nostri soggetti, i nostri utenti di Facebook, con i dati di quelli che hanno utilizzato WhatsApp fino adesso. Poi, dopo 4-5 mesi, quando Zuckerberg si è accorto che effettivamente il valore dei dati che aveva raccolto con WhatsApp era enorme, e poteva incrociare i numeri di telefono con quelli di Facebook, ha detto, ah no, scusate, ci siamo sbagliati, adesso inizieremo a incrociare i dati. Ovvio che si è alzato un enorme polverone, ovvio che poi i garanti della privacy dell'Unione Europea si sono tutti, diciamo, attivati per impedire che ciò accadesse. Attivati a livello formale, ma a livello sostanziale, da quando Facebook e WhatsApp si sono unite, cioè Facebook continua a chiedermi il numero di telefono e sa esattamente qual è il mio numero di telefono, per cui non so quanto si è rimasta, diciamo, separate le due società. Allora, secondo un'indagine abbastanza recente fatta dalla Global Privacy Enforcement Network, è venuto fuori che, secondo una statistica, la maggior parte degli utenti non è nemmeno consapevole di chi sono i titolari del trattamento e a chi stanno dando i loro dati quando navigano online. Quando utilizzano determinate applicazioni non sanno nemmeno chi è il soggetto che sta dall'altra parte. Perché? Perché c'è, diciamo, una carenza di volontà anche da parte dei soggetti che utilizzano le applicazioni di informarsi su quali sono i titolari. È bellissimo scaricare l'applicazione nuova, utilizzarla per fare editing fotografico e accetto tutte le condizioni possibili. Ogni volta che mi fai un pop-up, ho scritto, vuoi accettare? Sì, accetto, basta che mi fai utilizzare l'applicazione. Vuoi pagare? Beh, evidentemente no, che non voglio pagare. L'applicazione è gratuita, ho già pagato 900 euro per il telefono, secondo te voglio pagare 1 euro per avere l'applicazione? Ok. Quando io inizio compulsivamente a premere accetto su qualsiasi condizione di utilizzo, in realtà sto accettando un contratto che dispone che il soggetto titolare dell'applicazione possa utilizzare tutti i miei dati personali come meglio crede. Molto spesso, quando arrivano i clienti, dicono Eh, ma io vorrei raccogliere questi dati dai clienti, non so se posso chiedergli, non so questo. Certo che puoi chiederlo. Tanto, il tuo cliente arriva, utilizzerà la tua applicazione, molto spesso nemmeno le leggerà le condizioni generali, perché in definitiva le condizioni generali andiamo a leggere solo ed esclusivamente nel momento in cui abbiamo un problema. Solo quando io acquisto da un negozio e voglio avvalermi del diritto di recesso vado effettivamente a vedere come utilizzare, come avvalermi del diritto di recesso. Non prima, perché? Perché prima non ho il problema. Ok. Quindi io accetto e sto sostanzialmente cedendo tutto quello che mi riguarda e non sto parlando di nome e cognome. Parlo anche di intenzioni di consumo, parlo anche delle modalità con cui utilizzo l'applicazione, con cui interagisco, parlo anche di tutto ciò che riguarda non solo l'applicazione che sto utilizzando, ma anche le applicazioni che utilizzo prima e dopo aver utilizzato quell'applicazione lì. Adesso, non so quanti di voi gestiscono un sito internet o abbiano mai visto come funziona Google Analytics. Quando io guardo Google Analytics, non mi dice solo come gli utenti interagiscono con la mia pagina web, ma mi dicono anche da quale pagina web sono arrivati, verso quale pagina web stanno andando, e mi dicono molte altre informazioni, anche relative, diciamo, a elementi personali e personalissimi dei soggetti, cioè da quale localizzazione mi stavano guardando, dove erano, se mi guardano dall'Europa, dagli Stati Uniti, mi dicono se hanno un'età compresa tra i 20 e 30 anni, tra i 40 e i 50 anni, così io posso sapere esattamente qual è la mia clientela e so esattamente quale servizio fornire alla mia clientela. Se so che mi guardano di più le persone dei 70 anni in su, offrirò pubblicità mirata ai soggetti che hanno quella fascia d'età lì. Ok, e una volta che io riesco a fare questo, io riesco tranquillamente a vendere un servizio mirato a un minimo costo. Riesco per 50 euro a comprarmi un profilo di una persona e vendergli pubblicità mirata fino a che non gli faccio acquistare il mio servizio. In definitiva, ci siamo mai chiesti effettivamente quali dati stiamo cedendo? Provate a pensare. Abbiamo lampadine che si accendono con lo smartphone o che si accendono tramite internet. Io sto cedendo le mie abitudini di accesso a casa mia. Loro sanno che io arrivo a casa tutti i giorni alle 7 e mezza e vado a letto tutti i giorni a mezzanotte. Ok, sanno che utilizzo l'applicazione e sanno qual è il colore di luce che mi piace di più. Perché? Perché utilizzo a casa mia una luce calda da 2300 kilowatt. Ok, va benissimo. Però a me offrono un servizio e loro raccoglono dati sulla mia personalità. Utilizzo il contapassi. Benissimo, sanno che io cammino in media 8000 passi al giorno. Perfetto. L'Anizumo mi manderà la pubblicità delle scarpe per fare running perché sa che mi piace andare a camminare, sa che mi piace andare a correre. Sa che vado a nuotare perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica carico i dati del nuoto. Quindi mi venderanno la pubblicità dei nuovi occhialini della Spido. E poi l'utilizzo pubblicitario si sta spostando verso ulteriori fronti, light tracking. C'è la possibilità di tracciare il modo con cui io non solo interagisco con una pagina web, ma anche cosa guardo io di quella pagina web lì. Se il mio sguardo si posa sulla fascia destra, sulla fascia sinistra o sulla parte centrale della pagina. Perché? Perché così mi metteranno la pubblicità sulla parte destra della pagina. Perché sanno che io quando guardo una pagina web, il mio mouse, quando lo muovo, lo muovo sempre verso quella parte là della pagina. Quindi loro sanno che io sono più portato a utilizzare quel modo di visualizzazione e quindi spingeranno a mettere la mia pubblicità lì. Oppure il termostato. Loro sanno che a me piace una temperatura che va intorno ai 23 gradi e loro mi venderanno un servizio per risparmio energetico. Il problema qual è? E' quello che dicevamo prima. Se dopo due o tre anni che io utilizzo un servizio, questi mi cambiano le condizioni di utilizzo del servizio e le modalità di raccolta dei dati. Io ho una sorta di use penitendi. Ho la possibilità di scegliere di non cedere più i miei dati e di cancellare tutti i dati che loro abbiano raccolto fino adesso? Teoricamente sì. L'articolo 7 del codice della privacy mi dice che io ho il diritto di accesso a tutti i miei dati, ho il diritto di conoscere l'origine, la fonte, le modalità di utilizzo di tutti i miei dati. Ma a livello sostanziale posso effettivamente decidere di rimuovere tutti i miei dati personali da quel server? Consideriamo che molto spesso non passano su server dislocati in Italia. Sebbene il codice della privacy sia attuabile ed effettivo verso tutti quei soggetti che effettuino un trattamento in Italia, non solo che abbiano il server in Italia o in Europa, ma magari io utilizzavo un servizio tipo Mega per caricare i miei file, questo ha il proprio server in Ghana. A lui cosa gli interessa del fatto che poi l'Unione Europea andrà a fargli un'azione in Ghana per inibirgli l'utilizzo dei miei dati personali? Non gli interessa nulla perché in Ghana costano meno i server e perché c'è una legislazione nettamente meno favorevole rispetto a quella europea. Ecco perché abbiamo molti server dislocati all'estero. Dobbiamo sempre cercare di contemperare il nostro interesse ad utilizzare le applicazioni, a utilizzare internet, a utilizzare i servizi online con quelli che sono gli interessi delle aziende. Molto spesso non percepiamo quali sono i reali interessi delle aziende titolari del trattamento dei dati personali. Le aziende infatti hanno innanzitutto l'interesse a raccogliere più dati possibili, devono crearsi base di dati, perché loro vivono attraverso i dati. L'intento di Facebook è raccogliere i dati di miliardi di persone. Perché? Perché poi una volta raccolti questi dati li può vendere come servizi pubblicitari, può creare pubblicità mirata verso individui ben specifici. Poi, una volta raccolti i dati, le aziende li vogliono incrociare. Nel momento in cui io ho dieci dati, perché una volta facevo i sondaggi andando casa per casa, mostrando i questionari alle persone, e aspettando e sperando che loro compilassero i miei questionari anche in maniera corretta, adesso io faccio un post su Facebook in cui gli dico, vuoi sapere quale principessa della Disney saresti? Faccio varie domande, domande a cui i soggetti rispondono, perché effettivamente se metto 4-5 ragazzine sotto i 15 anni, sicuramente fanno il test per capire quale principessa della Disney sarebbe. E così raccolgono dati su vasta scala, raccolgono una marea di dati, e li raccolgono da soggetti perfettamente inconsapevoli. E poi li incrociano, ok? Incrociano questa tipologia di dati per capire che in Italia potrebbe andare meglio un film improntato su una principessa di colore rispetto a una principessa, diciamo, di origine caucasica. E poi, una volta incrociati i dati, cosa fanno? Profilano. Creano profili commerciali di intenzioni di consumo. Nel momento in cui io ho dati di milioni di persone e so che i soggetti di origine caucasica sono più portati a comprare un iPhone che sta sopra i 1.400 euro, evidentemente proporrò nel mercato quel prodotto a 1.400 euro. Perché? Perché tanto so che il mercato è disposto ad acquistarlo. E, oltre a creare profili commerciali, passano allo step successivo. Influenzano le scelte di consumo. Nel momento in cui io so esattamente qual è il bisogno dei soggetti che utilizzano i social network io posso tranquillamente prendere e influenzare le loro scelte di consumo come è stato dimostrato che hanno influenzato il voto negli Stati Uniti. Nel momento in cui io so esattamente qual è l'interesse specifico di una determinata base di utenti io posso andare a propogli pubblicità diretta su un specifico argomento e influenzare queste scelte di consumo e influenzare le modalità di voto. E poi tutto questo per vendere il loro servizio. Nel momento in cui loro mi propongono la possibilità di influenzare le scelte di consumo e profilare clientela vendono pubblicità. Ecco spiegato il business di Google, di Facebook e di qualsiasi altro ente esterno che utilizza i nostri dati personali in maniera massiva. Questo per dirvi cosa? Che a discapito di quello che abbiamo visto nell'evoluzione degli ultimi anni quello che abbiamo sempre percepito come bene, cioè bene nel senso bene materiale io ho un bene che è la mia macchina, ho un bene che è la mia casa, ho un bene che sono tutti i miei gioielli i miei orologi, i miei cellulari. Ma esistono beni ulteriori che è il bene relativo ai dati personali. Abbiamo quindi un nuovo bene, una nuova tipologia di bene diciamo futuro e che si evolverà sempre di più nei prossimi anni e che è sempre più soggetto ad acquisto da parte di titolare del trattamento che è il bene relativo alla personalità, al nostro nome, al nostro cognome, al nostro indirizzo non solo ma anche nelle nostre abitudini di consumo e al nostro profilo, al nostro essere persona quello che noi definiamo essere l'insieme del nostro individuo. Noi non siamo solamente un codice identificativo ma siamo più elementi e tutti questi elementi afferiscono ai dati personali. Il dato personale dunque non è solamente quello che è, il nostro codice fiscale, il nostro nome, un dato che ci identifica e basta ma è anche un qualcosa che esprime il nostro modo di essere, la nostra persona. Quindi quali sono i rischi? Il rischio è che avvenga un trattamento dei dati in un modo che noi non possiamo neanche definire, non possiamo neanche gestire. Il rischio è dettato soprattutto dall'assenza di trasparenza nel trattamento dei dati. Quando noi proviamo a leggere una privacy policy, adesso noi prendiamo e andiamo a leggere una privacy policy di ad esempio Amazon o di Google. Scopriamo molto facilmente che queste privacy policy molto spesso sono generiche e non definiscono nel dettaglio il modo con cui effettivamente avviene il trattamento dei dati personali. Perché? Perché Google non ha nessun interesse a farci capire come effettivamente stia trattando i nostri dati. Perché nel momento in cui noi capissimo effettivamente come avviene il trattamento e cosa possono fare con i nostri dati, noi cesseremo di dare a loro le nostre informazioni. Si crea quindi una simmetria informativa. Quando studiate economia, parlate di simmetrie informative nel mercato dei limoni, nel mercato dei bidoni, come vogliate definirlo. Praticamente nel mercato degli autoveicoli usati, io so esattamente la condizione in cui è la mia macchina, so esattamente che il motore non funziona, che la cinghia di distribuzione è da rifare, che il cambio gratta ogni volta che premio la frizione, so esattamente quale può essere il problema della mia macchina. Però l'acquirente non sa quali problemi ha la macchina. Perché? Perché la sta vedendo lì per la prima volta e la compra a vista è piaciuta. La può utilizzare un attimo, però effettivamente se è un rumore che si sente solamente quando sto guidando da 40 km, non lo sente. C'è quindi una simmetria informativa. Io so esattamente le condizioni dell'autoveicolo e l'acquirente no. Lo stesso avviene nel trattamento dei dati personali. Io sto utilizzando un servizio. Ho una privacy policy che non è trasparente, che non mi dà le dovute informazioni che dovrebbe darmi relativamente ai dati che vengono raccolti, perché io non so che i cookie servono effettivamente per tracciare tutte le tipologie di utilizzo che faccio del sito web. Io non so che il cookie mi permette di vedere come io interagisco con il sito web ogni volta che clicco, ogni volta che premo un tasto sulla tastiera, ogni volta che muovo il mouse. Ma Google lo sa. Quindi lui ti dice, accetti i cookie. Certo che li accettano, anzi, piuttosto di vedere sto banner enorme che ogni volta che accedo al sito web mi rompe le scatole, mi impedisce di guardare la cellulare a metà della pagina. Però nel momento in cui io accetto, loro iniziano il trattamento dei dati personali. Loro iniziano a raccogliere i dati in un modo che noi non possiamo nemmeno immaginare, in un modo in cui noi non possiamo nemmeno determinare. E poi c'è un ulteriore rischio, quello dell'inaffidabilità dei dati raccolti. Proviamo a pensare una cosa. Quando parliamo, e parliamo sempre di più, di diritto all'oblio, effettivamente di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di dati che non sono aggiornati o che non sono più nuovi o attuali. Cosa succede? Molto spesso l'interesse a raccogliere i dati, una volta che sono stati raccolti, cessa. Quando viene scritto un articolo sul gazzettino, sul mattino, fa clamore la notizia di un'indagine, dell'inizio di un procedimento penale, fa molto meno clamore la notizia di una soluzione. Quindi, quando viene raccolto il dato e viene indicizzato tramite il motore di ricerca, indicizza solamente la notizia dell'inizio delle indagini. Poi, magari, la notizia non viene rettificata col fatto che il procedimento sia estinto o che è stato archiviato, e quindi non viene più indicizzata la notizia della soluzione piena dell'archiviazione. Ecco che allora io ho dei dati che sono inaffidabili, ho dei dati che potrebbero essere troncati e essere generici. Questo cosa comporta? Comporta sotto un primo profilo che io, utente, non riesco a dare tramite i dati che sono online la piena percezione di me stesso. Ci sono delle informazioni errate, ci sono delle informazioni che si interrompono a 4-5 anni prima quando era iniziato il procedimento a mio carico. Ma poi, cosa succede? Che il procedimento si è risolto in un'altra maniera, si è estinto, ma nessuno lo sa. E nemmeno Google lo sa. Quindi, il terzo che arriverà inconsciamente a cercare informazioni su me stesso, cercherà informazioni e vedrà Andrea Rinaldo arrestato per... Ma non vedrà Andrea Rinaldo assolto con formula piena perché il fatto non sussisteva? Ecco che allora, in questo caso, ci sono delle informazioni che sono troncate, ci sono delle informazioni che sono inaffidabili. Queste informazioni inaffidabili possono comportare grossi problemi. Perché? Perché nel momento in cui io mi propongo nel mercato del lavoro, il mio futuro datore di lavoro, non vede le informazioni che mi interessano. O meglio, vede le informazioni parziali. E poi c'è un problema ulteriore. Limitano la libertà degli individui. Nel momento in cui c'è una simmetria informativa, per cui io non so quali informazioni ha Amazon sul mio profilo commerciale e sulla possibilità di vendermi un prodotto, io vedo un prodotto e dico, ah, bello, lo compro. Ma non so che quel prodotto lì mi è stato pubblicizzato perché è andato a vedere tutto lo storico dei miei acquisti, è andato a vedere tutto lo storico dei miei siti internet che ho guardato. Sono tre mesi che guardo siti di culle e Amazon accedo e mi fa vedere la culla, ultimo modello, in sconto di 4 euro e premo acquisto subito. Perché? Perché Amazon stava studiando nel mio profilo da 2-3 mesi e nel momento in cui lui sapeva che avevo bisogno della culla me l'ha proposta e addirittura mi ha fatto uno sconto ad personam abbassandomi il prezzo proprio perché così io lo potessi acquistare. Lui lo sapeva che avevo bisogno di quel bene lì e ha fatto uno sconto apposta perché io procedessi con l'acquisto. Non sto parlando di fantascienza. Sono cose che succedono sul serio. Perché? Perché io inconsciamente gli ho dato tutti i dati di cui lui aveva bisogno per vendermi quel prodotto. E ciò limita la mia autodeterminazione. Nel momento in cui io faccio un acquisto compulsivo perché mi viene proposto un bene dopo tre mesi che mi ha studiato sta limitando la mia autodeterminazione. Io altrimenti non avrei acquistato quel prodotto lì. Ho fatto un acquisto compulsivo solo ed esclusivamente perché un soggetto, o meglio, una macchina ha studiato la mia personalità, ha studiato il mio profilo commerciale. Tutto ciò limita il mio diritto ad essere una persona consapevole. Perché? È bellissimo il fatto che mi propongano sempre queste offerte, è bellissimo il fatto che su Telegram mi arrivino messaggi sempre con offerte commerciali, con sconti. Però dobbiamo anche capire che questi sconti non arrivano perché siamo fortunati, ma arrivano perché dei soggetti sanno come siamo fatti, ci hanno studiato, hanno raccolto i nostri dati personali, che noi gli abbiamo dato inconsapevolmente perché noi abbiamo utilizzato servizi che ci interessavano fino a un certo momento. E grazie a queste informazioni riescono a capire tutto su di noi. Esistono diversi casi, ok? Uno dei casi più eclatanti, diciamo, è nato da uno studio di un certo Michael Kosinski, che aveva creato un'applicazione che si chiamava My Personality e serviva proprio per fare sondaggi su larga scala per provare a capire se tramite dei like che venivano messi su Facebook da parte di un bacino di utenti riuscissero a prevedere i determinati elementi dei soggetti che avevano messo i like. In buona sostanza, prendevano un bacino di utenti, gli facevano mettere like a determinate pagine in base ai loro interessi, poi studiavano il modo con cui avevano interagito con queste pagine e hanno capito che nel 70-80% dei casi riuscivano a capire esattamente la personalità del soggetto. Ok? Tramite circa 170 like, questo era il minimo che serviva per riuscire a capire la personalità, riuscivano a capire tratti caratterizzanti del soggetto tipo l'origine razziale, tipo in quale stato abitasse il soggetto o tipo quali erano i suoi hobby, quali erano i suoi elementi, diciamo, caratterizzanti del suo essere individuo. Nel momento in cui loro hanno pubblicato il primo paper nel 2013 è arrivata una società, la Strategic Communication Laboratories e ha detto mi piace la tua tecnologia, voglio acquisirti. E lui ha detto bellissimo, cioè io sono ricercatore universitario, ce la porta a Cambridge un notevole risalto perché insomma l'applicazione è fatta bene, è diventato diciamo molto importante come progetto e il fatto che mi venga riconosciuto da questa società esterna questa possibilità di essere acquisito insomma molto bello e praticamente una volta acquisita cosa è successo? Che hanno scorporato la parte del software che gestiva l'analisi comportamentale e hanno creato una nuova società, una nuova divisione che si chiama Cambridge Analytics. Nel momento in cui hanno introdotto questa nuova diciamo divisione hanno iniziato a studiare il profilo di tutti i vari soggetti fino a capire o meglio a portare un candidato alle elezioni politiche americane contro Donald Trump. Hanno preso un soggetto e l'hanno diciamo iniziato a fare pubblicità mirata a determinati soggetti facendogli vedere slogan pubblicitari che prendessero una determinata fascia di popolazione per incrementare la possibilità che questi soggetti votassero questo candidato. Questo è un modo di influenzare le elezioni in maniera inconsapevole cioè in maniera da parte dei soggetti che poi andranno a votare inconsapevole. Perché? Perché loro dopo che hanno raccolto tutti i dati di Facebook mi hanno analizzato sanno che io su una determinata scelta politica mi esprimerei in un determinato modo perché? Perché ho messo mi piace la pagina non so rifondazione comunista perché ho fatto questo perché ho fatto quest'altro loro dicono bene tu soggetto sei a favore di questa determinata scelta politica dunque io ti faccio vedere gli slogan del candidato solamente da dove si esprimano in questo modo e non sto dicendo cioè non sto parlando di fantascienza ripeto sto parlando di qualcosa che è già successo e sto parlando di qualcosa che è successo diciamo già da qualche anno e qui poi ci sono altri problemi che riguardano non solo la capacità di autodeterminazione ma anche la nostra fiducia che riponiamo nei soggetti che trattano questi dati nel momento in cui io ho un bacino di dati ok quanto sono sicuro che il soggetto che li sta trattando li sta trattando in maniera corretta in maniera che nessuno possa illecitamente accedere a questi dati mi spiego meglio se io ho un orologio d'oro ok prendo e ovviamente non lo lascio in bella mostra in casa mia ma lo metto in cassaforte perché perché ho paura che nel momento in cui qualcuno arrivi e acceda a casa mia prenda e vada a rubarmi l'orologio va bene nel momento in cui io ho i dati personali che riguardano tutta la mia personalità tutto il mio modo di essere tutta la mia persona ok nome e cognome numero di provvidenza sociale qualsiasi altra cosa che riguardi il mio individuo evidentemente io avrei se consapevole dell'importanza di questi dati li terrei segreti non andrei a dimostrarli cioè quando io ho delle idee politiche che magari sono un po' estreme non vado in pubblica piazza a dire sì io ho questa idea politica perché magari so che non potrei trovare il favore del pubblico che ho di fronte quindi li terrei segreti non terrei come informazione riservata ovvio che nel momento in cui questi dati vengono raccolti da Google io devo fidarmi che Google li sta trattenendo e che non li divulghi a terzi evidentemente questo non è un problema sentito dai soggetti terzi perché viste anche ultimi fatti di cronaca primo tra tutti vi ricordo il caso Ashley Madison in cui i dati sono stati tranquillamente hackerati e poi messi in pubblica piazza questo mi porta a dimostrare che io mi devo anche fidare del terzo e il terzo deve trattenere i dati in modo consapevole in modo diciamo sicuro ed evitare che un hacker possa arrivare e rubare tutti questi dati altro caso è il caso Equifax caso in cui una società americana che era proprio predisposta per tutelare i dati personali e trattenerli si è fatta rubare dati di miliardi di cittadini cioè di milioni di cittadini americani ok ma dati diciamo super sensibili perché c'erano anche i dati della previdenza sociale oppure anche il caso che è successo qualche anno fa il caso di Death Happening in cui dati di molti utenti di dispositivi Apple si sono fatti rubare foto intime private tramite l'accesso dai cloud va bene e quindi noi non dobbiamo solamente pensare che i nostri dati personali vengono utilizzati per farci profilazione ma dobbiamo anche pensare quanta fiducia riponiamo in questi soggetti terzi quanta fiducia abbiamo che loro li trattengono in maniera corretta per questo serve un utilizzo consapevole di internet e poi un ulteriore elemento quando parlavamo di dati che vengono incrociati tra di loro dobbiamo pensare che una volta i dati venivano incrociati diciamo in maniera manuale faccio un esempio quando io vado dal mio macellaio il mio macellaio sa che mi piace un determinato tipo di taglio di carne e ogni volta che io accedo lui mi dice guarda ho la carne fresca appena tagliata ho esattamente quel tipo di taglio lì lo vuoi tanto sa che mi piace io ogni volta lo compro quando invece questa cosa viene fatta dalle macchine ok viene fatta in maniera automatica dobbiamo pensare che non c'è un soggetto che manualmente incrocia i dati ma ci sono macchine che sono proprio predisposte per incrociare questa tipologia di dati non so se avete sentito l'altro giorno le nuove evoluzioni del software di google determinato si denominato alpha go zero l'anno scorso google ha fatto una sfida e ha detto voglio vedere se una macchina riesce a battere il campione mondiale di go che è un gioco penso di origine cinese se non mi ricordo quello con le biglie bianche e nere che è considerato il gioco più difficile al mondo o anche peggio dei scacchi l'anno scorso dopo aver fatto un training della propria macchina dandogli impasto centinaia di partite pregresse fatte da umani alpha go ha iniziato a imparare a giocare dopo tante ore di training e tante partite viste le hanno fatto sfidare contro il campione mondiale di go e l'ha battuto la notizia ha fatto clamore evidentemente una macchina ha battuto il campione mondiale di go in uno dei giochi che è considerato il gioco più difficile al mondo l'altro giorno però si è passato a uno step successivo tramite un software denominato alpha go 0 alpha go 0 ha portato l'intelligenza artificiale su un altro livello partendo da le sole regole del gioco senza studiare partite pregresse ha iniziato a giocare contro se stesso battendosi ogni volta e imparando in maniera autonoma a giocare diventando dopo due ore più forte del campione del mondo di go e iniziando a elaborare strategie nuove di gioco perché? perché si è svincolato dai preconcetti umani praticamente anziché studiare le partite pregresse e giocare come giocava un umano ha iniziato a giocare in maniera autonoma senza lo studio pregresso e creando nuove strategie perché? perché mancavano tutti i preconcetti ecco che allora se noi applichiamo questa tecnologia che finché serve per giocare a go è una cosa ma poi questa tecnologia non rimane vincolata a giocare a go viene trasposta per incrociare i dati personali per incrociare i dati dei soggetti nel momento in cui noi prendiamo e iniziamo a dire bene anziché dargli in pasto le regole del go gli do in pasto i dati personali che ho raccolto in anni e anni di profilazione e analisi dei miei soggetti cosa succede? che inizia a fare delle correlazioni che vanno al di là dei preconcetti umani e correlare scelte di consumo non solo in base diciamo a quelle che noi possiamo pensare siano le scelte di consumo determinate dalle scelte pregresse mi spiego meglio non capisce solo che quando io vado dal macellaio compro quel determinato taglio di carne perché mi piace quel tipo di carne e che magari potrei comprare anche un'altra carne molto simile perché ha un gusto simile quindi potrebbe piacermi ma inizia a pensare che se io entro dentro dal macellaio e compro quella carne potrei dover comprare anche il pepe e il sale perché mi servono per cucinare la carne adesso questo è un esempio banale ma nel momento in cui noi andiamo a farlo a dare impasto di questi dati a una macchina che può creare correlazioni diciamo enormi tra tutti i dati ecco che allora riusciamo a mettere in correlazione anche cose che tra loro non potrebbero nemmeno cioè io non potrei nemmeno immaginare che siano in correlazione tra loro ad esempio che la popolazione che beve caffè è più portata ad avere tumori da qualche parte ok nessuno ci aveva mai pensato ma una macchina con una capacità di analisi enorme è riuscita a mettere in correlazione questi due dati proprio perché aveva una base di dati enorme ed era svincolata dai preconcetti umani ultimi cinque minuti mi dicono dalla regia voglio trattare un ultimissimo argomento abbiamo visto trattamento dei dati abbiamo parlato di software che è in grado di analizzare questi dati in maniera compulsiva abbiamo visto la possibilità di determinare le nostre scelte di consumo e qualsiasi altra cosa che riguardi la nostra personalità come possiamo limitare questa cosa e come può intervenire il software open source allora nel momento in cui io vi parlo di Google AlphaGo Zero nessuno di noi può avere accesso a quell'algoritmo perché? perché evidentemente quell'algoritmo è portato da proprietà intellettuale perché? perché è evidente che Google dopo anni e anni di studio non voglia mettere in pubblica piazza l'algoritmo che ha utilizzato per sviluppare AlphaGo Zero cosa comporta il fatto che io non abbia accesso all'algoritmo e che l'algoritmo sia coperto da proprietà intellettuale? comporta che Google è l'unica che è in grado di modificare quell'algoritmo e di capire come funziona vi faccio un esempio molto più diciamo base e molto più attuale io ho un'auto a guida autonoma questa auto a guida autonoma deve scegliere se investire un pedone o uccidere il soggetto che sta guidando l'auto chi è che decide l'algoritmo? chi è che decide quando l'auto deve uccidere il guidatore e quando deve uccidere i pedoni? lo decide lo sviluppatore ma nel momento in cui questo algoritmo ha un bug questo algoritmo ha un elemento di codice per cui determinate scelte non potrebbero avvenire proprio a causa di un errore di progettazione se l'algoritmo è coperto da copyright è segreto e nessuno lo può vedere perché serve un'operazione complessa di reverse engineering come faccio io a scoprire questo bug prima che faccio una strage? ecco che allora lo sviluppo di un qualcosa di così importante come può essere un software di profilazione o un software che gestisca le auto a guida autonoma è molto importante che avvenga la luce del sole che avvenga con soggetti che possano intervenire e dire guarda che se tu lasci quella stringa di codice succederà una strage perché nel momento in cui non saranno tre le persone ma saranno quattro la macchina andrà in crisi e le investirà tutte e quattro ecco che allora il software open source svolge un ruolo molto importante nel proseguo dello sviluppo degli algoritmi che determineranno l'intelligenza artificiale e determineranno diciamo il prossimo il futuro prossimo delle nuove tecnologie proprio perché permettono di utilizzare un codice trasparente nelle scelte ok nelle scelte che devono determinare se uccidere il guidatore o uccidere i passeggeri e permettono di avere un bacino più ampio di intervento perché se io pubblico il codice delle mie auto a guida autonoma su github chiunque può prenderle e andare ad analizzare quel codice e trovare i difetti ok e trovare anche i problemi perché nel momento in cui io ho un software che ha un bacco enorme che permette l'accesso da parte di un hacker alla mia macchina che può intervenire guidarla da sola e decidere che ne so di prendere la mia macchina e lanciarla in autostrada in contromano ecco che allora se è solamente una società che l'ha sviluppato nessuno si accorgerà mai di quel bug lì tranne il pakistano che prende e va a analizzarmi il software dall'altra parte invece avrei una nutrita schiera di utenti che possono prendere e analizzare il software fare un reverse engineering e dirmi ok attenzione lì c'è questo grosso problema chiudiamo questa falla di sicurezza ok basta se ci sono se ci sono domande allora iniziamo subito a dire che la parte del software è molto complessa a livello di tutela perché il software riguarda diciamo tre elementi di tutela da un lato abbiamo il diritto d'autore ok perché il codice sorgente per come è scritto è tutelato dal diritto d'autore poi abbiamo quello che riguarda il design perché il software quando è compilato ed eseguito si mostra in una determinata interfaccia grafica e lì è tutelato dal design e poi abbiamo quello che riguarda la parte brevettuale che è quando io posso brevettare il brevetto se posso brevettare il software in Italia è difficilissimo in Europa più semplice in Stati Uniti è ancora più semplice tu mi dici il rischio legale di pubblicare parte del software allora lì potrei innanzitutto andare contro il diritto d'autore nel momento in cui io pubblico il software che sta alla base del kernel dell'iPhone sto violando il diritto d'autore dell'Apple ok perché evidentemente sto pubblicando il suo software poi c'ho un ulteriore profilo diciamo di illecito che è quello di violazione dei segreti industriali nel momento in cui io pubblico il software sto violando un segreto industriale legato al software medesimo perché non dovevo pubblicarlo perché qualcuno aveva deciso di non pubblicarlo boh detto questo rischi legali allora sappi che l'illecito sul diritto d'autore può portare anche al carcere ok e oltre il fatto del risarcimento del danno perché è stato pubblicato un software che doveva rimanere segreto ok poi sono tanti altri aspetti da valutare comunque sì diciamo che non si può fare e i rischi sono molto alti allora in quel caso lì cosa succede che c'è un bilanciamento di diritti se tu lo fai per dimostrare che la società magari sta raccogliendo dati in maniera illecita allora lì devi valutare la possibilità di pubblicare il codice per dimostrare questa tipologia di illecito trattamento dei dati però io lì non pubblicherei il software o pubblicherei la semplice parte che dice guarda che a questa query viene risposto così quindi vuol dire che i dati vengono trattati faccio un esempio Snapchat quando è stato scoperto che Snapchat non tratteneva cioè tratteneva i dati per più di 48 ore li tratteneva fino a 3 mesi hanno pubblicato semplicemente la parte di codice che dimostrava che Snapchat faceva cioè che utilizzava in maniera illecita i dati personali ovvio tu non vai a pubblicarmi tutto il codice dell'applicazione dimostri semplicemente la stringa di codice che fa l'azione che tu determini essere illecita ok poi considera anche che comunque il reverse engineering potrebbe di per sé essere un illecito però in questo caso qua ci potrebbe essere una scriminante dovuta proprio alla volontà di dimostrare l'illecito di dati personali ok altre domande sì nell'ultima battuta hai parlato dell'intelligenza artificiale nei campi in cui questa viene maggiormente attuata in un momento anche in rispettiva quello economico e quello militare sostanzialmente sì dico questo perché qualcuno penserebbe anche come potrebbe essere l'intelligenza artificiale etica umanistica è possibile una cosa del genere perché questo non si sviluppa allora noi discutevamo proprio prima allora in buona sostanza l'intelligenza artificiale etica umanistica è un grosso problema perché mettiamola così chi è che sviluppa il cioè a mio modo di vedere ok sto parlando di una cosa di un mio personale interpretazione allora il legislatore interviene a fatto avvenuto ok le auto a guida autonoma non sono ancora normate verranno normate in seguito però già esistono il trattamento dei dati è stato fatto per anni e adesso è uscito un regolamento sulla privacy nuovo che diventerà efficace l'anno prossimo il legislatore interviene sempre dopo prima viene il fatto poi interviene partiamo un po' più diciamo dalla base chi è che fa gli applicativi chi è che sviluppa i robot gli sviluppatori ok gli sviluppatori ingegneri questi sviluppatori sono loro che dovrebbero partire a livello etico e dire ok il robot l'intelligenza artificiale deve operare solo in questa maniera qua motivo per cui Google prima ancora di altri e prima ancora che la cosa venisse normata si è dotata di un comitato etico interno loro hanno un comitato etico che valuta le proprie scelte però è evidente che è come avere io che penso posso farlo e poi mi autoconvinco che lo posso fare sebbene ci sia una distorsione dell'etica stessa cosa succede? che nel momento in cui io ho gli sviluppatori che ragionano secondo un profilo etico riesco ad avere delle macchine etiche nel momento in cui io non ho uno sviluppatore che ragiona secondo un profilo etico non posso averlo motivo per cui nelle ultime interrogazioni parlamentari a livello europeo quando si è parlato di un'etica delle macchine si sono tirate in ballo le leggi di Asimov ok perché? perché partono dalla letteratura perché? perché gli sviluppatori che sono normalmente persone molto legate alla fantascienza e molto legate alla robotica leggono i libri di Asimov e i libri di Asimov hanno creato un'etica per cui le macchine non devono mai far male agli uomini prendiamo però il caso dei militari e dell'esercito in quel caso lì ci sono forze politiche che spingono perché questi principi non vengano rispettati ok i droni automatici che prendono e vanno a uccidere le persone lo fanno secondo il principio diciamo ritenuto più alto che le macchine in quel caso li stiano utilizzate per tutelare l'interesse di una nazione ed ecco che allora viene battuta l'etica però fin tanto che diciamo non abbiamo un contenuto normativo che possa determinare questo ci dobbiamo basare su quella che è l'etica dei soggetti che sviluppano il software nella convinzione che loro diciamo rimangano nei loro principi però se io ho una forza diciamo superiore commerciale che determina come io devo fare perché sono mi licenzia io devo un attimo attenermi a quella che è la forza politica superiore poi sono comunque pensieri questi ok ognuno è libero di pensarla come la vuole altre domande? no? basta? ok 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 vai per molestando diciamo le necessità di condividere il codice alla comunità mi chiedevo se gli sviluppatori delle aziende fossero tenuti dal punto di vista legale a dimostrare e dichiarare per alcuni degli atti il testo del codice affinché fossero stati almeno prevenuti alcune possibili ok allora questa è una domanda abbastanza interessante perché sarà molto probabilmente oggetto di dibattito nei prossimi anni faccio un esempio tornando un attimo alle auto a guida autonoma che è l'esempio più concreto che abbiamo adesso se per caso viene fuori che un'auto a guida autonoma fa un incidente e a livello assicurativo l'assicurazione non vuole pagare rimborsare quell'incidente lì la società ovviamente dovrà dimostrare che la macchina ha agito in quella determinata maniera perché il codice era stato scritto così ok non è che sia più che altro un problema dal punto di vista costringo l'azienda sotto il profilo legale a dimostrare il codice come è stato scritto ma risulta un problema sotto un profilo diciamo diverso dal risarcimento del danno l'azienda per discolparsi e per evitare di pagare il risarcimento del danno dimostra che la macchina ha agito così perché il codice era fatto così non c'erano bacchi nel software non c'erano problemi di struttura dunque il risarcimento del danno non è dovuto perché è un fatto che non poteva succedere altrimenti ti faccio un esempio quando c'è stato il problema non so se hai sentito dell'incidente della Tesla l'anno scorso due anni fa che è finita sotto un camion praticamente c'era una macchina la Tesla che stava proseguendo in autostrada negli Stati Uniti un camion ha fatto un'inversione a U in autostrada perché in autostrada negli Stati Uniti non c'è la doppia coscia di delimitazione centrale il camion però negli Stati Uniti non hanno sotto tra le ruote quel blocco di passaggio sono liberi sotto se guardi i film americani vedi sempre le macchine che si spostano sotto il camion nel girarsi il camion non ha visto la Tesla la Tesla stava andando avanti in maniera autonoma perché il guidatore non stava usando il volante non ha visto il camion ok perché i sensori di bordo con il riflesso della luce non sono riusciti a percepire il camion si è infilata sotto ed ha decapitato il guidatore in quel caso lì Tesla ha dimostrato che l'algoritmo non è riuscito a prevedere il camion ma non è stata colpa della macchina perché la macchina non poteva fare altrimenti in quel caso lì e l'ha dimostrato tramite la pubblicazione di una parte del codice che proprio ha dimostrato l'impossibilità di agire in maniera diversa oltre al fatto dell'imperizia del guidatore che in quel momento non aveva le mani sul volante ok però questo è un problema ancora aperto ed è un problema che sicuramente andrà a svilupparsi nei prossimi anni motivo per cui ci sono interrogazioni parlamentari a livello europeo proprio per riuscire a determinare questa cosa perché? perché manca una base legislativa in questo caso qua e manca proprio una base che obblighi le aziende a pubblicare il codice o a lasciarlo in maniera aperta così che si possa vedere come vengono determinate le scelte ok guarda di essere stato chiaro ok a chi vai a dare la responsabilità se la Tesla decide di uccidere il guidatore perché lo sviluppatore ha deciso nel proprio algoritmo di determinare che la macchina in quella circostanza lì non vada ad uccidere i passanti ma uccidere il guidatore di chi è la colpa della casa automobilistica dello sviluppatore software o è colpa del guidatore che non aveva le mani sul volante ok sono diversi i profili da prendere in causa io ti dico in questo momento qua è lo sviluppatore che ha determinato come doveva agire la macchina e dovrà essere lo sviluppatore che dimostra che in quel momento lì è stata la scelta la scelta diciamo il minormale possibile e quindi magari diminuire l'esercizamento del danno dovuto al guidatore ok poi il problema però si pone diciamo sotto un profilo anche commerciale come fa la BMW l'Audi a dirmi bene io sviluppo delle macchine per salvare 4 persone ok i passanti e uccidere il guidatore chi mai mi comprerebbe una macchina che sa perfettamente che in un caso del genere lo porta alla morte nessuno però sotto un profilo etico magari è più corretto salvare una famiglia con 4 bambini che sta attraversando la strada rispetto a che salvare un unico guidatore ok e lì si aprono diversi scenari diciamo che attualmente non c'è una forma di tutela non c'è una forma legislativa che dica sì è giusto che in questo caso la macchina decida così e motivo per cui cioè si sta dibattendo anche attualmente su questa cosa non è un qualcosa che sta passando in sordina motivo per cui le auto a guida autonoma noi attualmente non le abbiamo che girano per strada ce le abbiamo negli Stati Uniti ma perché c'è una legislazione molto più morbida che si basa non più su una diciamo legislazione ferrea come lo statute law nostro ma su un case law che va in base alle circostanze alla giurisprudenza di fatto dice ok in questo caso qua è stata sempre attribuita responsabilità al guidatore attribuiamo anche in questo caso responsabilità al guidatore ok darti una risposta così è veramente difficile perché non c'è una base per dirti si è così no non è così e io ti dico in questo caso io andrei a indagare sul perché la macchina ha scelto di agire in quel modo ok e vabbè comunque è complessa ok grazie